Nelle nostre ultime tre voci di blog, ci siamo concentrati sulle ragioni specifiche in cui la diversità dei fornitori è diventata una parte integrante del mondo di commercio. Qui vi diamo una ragione di più. Con l'inclusione di un vasta gamma di tipi di fornitori nella sua filiera, è possibile creare una miscela di fornitori innovativa e forte. Più spesso, i programmi di acquisizione di classe internazionale hanno bisogno di creare un vasto di fornitori diversi se vogliono essere innovativi e preparati. Per realizzare questo obiettivo, è necessario rimuovere gli ostacoli che affrontano i veri fornitori e rendere più facile il processo di acquisizione. Allora, faccia clic qui per apprendere di più.